Ciao grandissimi, sono Lindo ragazzi, sono qui oggi per portarvi questo nuovo video, oggi ragazzi, nuovo video su Assassin's Creed Origins. Difatti ragazzi, nel video di oggi andremo a parlare e analizzare gli ultimi teaser e trailer rilasciati da Assassin's Creed su un nuovo capitolo di Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins. Difatti ragazzi, in queste ore sono stati rilasciati sia dei taser sulle varie pagine Facebook di Assassin's Creed, sia due trailer. I ragazzi sono molto molto interessanti e parlano ragazzi dei nostri rivali, dei nostri nemici all'interno appunto del prossimo capitolo di Assassin's Creed. Cioè ragazzi parlano dell'ordine degli antichi. Piccola parentesi ragazzi, vi ricordo che settimana prossima arriverà un video molto più specifico dove parleremo più nel dettaglio di questo ordine degli antichi, con molte curiosità davvero davvero interessanti. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale o comunque rimanete connessi che arriverà questo video ragazzi che è davvero bomba, molto interessante. Torniamo al discorso. Difatti ragazzi, come vi ho detto, questi taser e trailer parlano dell'ordine degli antichi. E direi ragazzi di partire dai taser rilasciati su Facebook, dove ragazzi possiamo notare che è stata data da parte di quelli che hanno realizzato questo taser, quindi Assassin's Creed o comunque Ubisoft, un'area quasi ansiogina, che fa venire un po' di ansia, tensione, un'area molto cupa, che quasi fa venire paura perfino. Dove vi sono questi cinque personaggi che parlano. Questi cinque personaggi ognuno ha una maschera diversa. Ognuno di questi cinque personaggi ha una maschera che la contraddistingue e possiamo quasi definirli come i capi sacerdoti di questo ordine degli antichi. Successivamente ragazzi, oltre ai teaser spezzettati di questi personaggi, è arrivato il trailer chiamato le maschere della cospirazione, dove ci sono appunto questi cinque personaggi con queste maschere che appunto parlano ed essenzialmente cercano di incutere comunque terrore, dicendo ti ricordi di me, noi siamo ovunque, ci rivedremo e quello sarà l'ultimo giorno della tua vita. Incutendo comunque terrore e secondo me sono riusciti anche abbastanza bene ad incuterlo, perché il livello di ansia che danno, il livello di timore che danno è molto alto, quindi comunque un trailer e dei taser fatti molto bene, dove lo scopo di mettere ansia, di dare un po' di paura, è stato raggiunto bene. E poi ragazzi, finalmente è arrivato il trailer dell'ordine degli antichi, dove ragazzi viene praticamente detto che l'ordine degli antichi è composto da queste figure misteriose con queste maschere, che sono alla ricerca del potere degli dei e rimanendo comunque nascosti o comunque senza volto con queste maschere, controllano il faraone rimanendo nell'ombra e quindi l'influenza che avevamo visto nei vari trailer, o comunque ipotizzato precedentemente a questi ultimi appunto video, è effettivamente così. Loro controllano il faraone nell'ombra e nell'oscurità, però lo controllano come se fosse una marionetta, citando un precedente trailer. Nel trailer viene perfino detto che quando loro vogliono qualcosa nessuno è in grado di fermarli e viene anche detto che se non agiremo adesso sarà la fine per l'Egitto e per il paese intero. E rivolgendosi a Bayek viene perfino detto, cosa molto importante, che l'ordine degli antichi sono la ragione del dolore di Bayek e gli viene chiesto a Bayek stesso cosa ha intenzione di fare. Quindi si rivolge un po' anche a noi, ecco, indirettamente comunque. Poi ragazzi vengono alternate appunto immagini di questi cinque sacerdoti, anche se in questo trailer qua se ne vedono soltanto quattro di sacerdoti, ma ci arriviamo dopo. Immagini di grande sofferenza, tantissime vittime vediamo, Bayek che viene perfino picchiato, quindi vediamo comunque il potere di questi sacerdoti appunto sull'Egitto intero. Ma andiamo a parlare adesso bene di questi cinque sacerdoti, che è il punto principale di questo video. O comunque di questi cinque capi bar esponenti principali dell'ordine degli antichi. Il primo sacerdote ragazzi di cui vado a parlarvi è il sacerdote di Amorra. Cosa molto importante ragazzi perché i sacerdoti di Amorra sono i sacerdoti più potenti di tutti. E il sacerdote di Amorra che vediamo ragazzi si chiama Medunamun, che è quello che abbiamo già visto nella demo dell'E3 di un po' di tempo fa. Che è diciamo colui che indossa anche la maschera color blu con lineamenti molto egiziani. E che nel taser dice e parla dei sogni di Bayek. Cosa pensi di notte quando i tuoi occhi sono chiusi ma la tua mente è ancora sveglia? Ricordi il suo ultimo sorriso? E qua bisogna capire a chi si riferisce. Comunque c'è dietro una storia sicuramente. E ragazzi cosa molto importante Medunamun in un artwork ha in mano la mela dell'Eden. Cosa molto importante questa ma non la vediamo soltanto nell'artwork. Difatti vediamo anche nel trailer un piccolo fotogramma ragazzi dove vediamo Medunamun che ha in mano la mela dell'Eden. Quindi ragazzi questo ordine degli antichi ha un potere immenso. Se uno dei suoi sacerdoti ha perfino in mano la mela dell'Eden e la sta usando in combattimento ha un potere immenso. Quindi questo per farci capire il potere immenso contro cui dovremmo combattere. Poi ragazzi l'altro sacerdote più evidente che si vede all'interno del trailer è il sacerdote di Anubi. E nel taser diceva questo. Ti conviene trovarmi per primo. Come sapete bene ragazzi Anubi nella civiltà egiziana era il protettore delle necropoli nel mondo dei non morti. Inoltre era anche il dio della mummificazione e dei cimiteri. Quindi tutto quello legato comunque alla morte. E' comunque facilmente riconoscibile perché è quella divinità che ha la faccia che è un misto tra cane, sciacallo, lupo e così via. E sappiamo che all'interno del gioco questo sacerdote si chiamerà Etepi. Poi ragazzi passiamo al gladiatore. Che anche questo lo vediamo nel trailer. E' un pochino più nascosto ma lo vediamo. Anche lui l'abbiamo visto nei taser e nel trailer la maschera della cospirazione appunto con la maschera. E lo intravediamo come ho detto appunto in questo ultimo trailer, L'Ordine degli Antichi. E quello che vediamo nel trailer è che appunto è essenzialmente un guerriero lui. E nel taser diceva questo. Guardati le spalle. Ed è comunque quella maschera in stile greco. E questa è una cosa molto importante ragazzi in stile greco. Poi ragazzi abbiamo la donna che vedevamo anch'essa mascherata all'interno dei teaser e trailer. E che abbiamo rivisto nell'ultimo trailer Ordine degli Antichi e che possiamo definire come la spadaccina persiana. Difatti la vediamo scontrarsi con Bayek all'interno del trailer e sembra essere dotata di moltissime abilità nel combattimento. E nel taser diceva questo. Quelli che ho incontrato prima di te erano così patetici. Per favore non deludermi. E poi ragazzi c'è l'ultimo sacerdote o comunque esponente principale dell'Ordine degli Antichi. Quello con la maschera con gli occhi tondi. Il radiatore che per me è la maschera nettamente più inquietante di tutte. E ragazzi però la cosa molto strana che tanti si chiedevano il motivo. All'interno dell'ultimo trailer L'Ordine degli Antichi non c'era questo personaggio. E qua svolgono un po' di dubbi. Perché non c'era? O magari è una figura talmente importante che merita uno spazio di per sé. Oppure non si sa il motivo. Voi cosa ne pensate? Sa di fatto ragazzi che non c'era. E qualcosa vorrà dire sicuramente. Per me è perché magari avrà un ruolo fondamentale o forse più importante ancora degli altri. Ma sono soltanto ipotesi. E questo è quello che diceva invece anche lui nel trailer. Ci siamo già incontrati. Ricordi quel giorno? Come puoi dimenticarlo? Certo che lo ricordi. Il peggior giorno della tua vita. Ci rivedremo. E sarà l'ultimo giorno della tua vita. E cosa molto importante ragazzi che volevo dirvi su questi sacerdoti o comunque questi capi esponenti dell'Ordine degli Antichi è che se vedete bene nel trailer sembra che abbiano dei poteri. E ragazzi sogliano dei poteri. Perché usano i poteri di Manufatti per creare delle illusioni. Vediamo ad esempio Anubi che alza le acque. Tutto grazie al potere di Manufatti. Quindi ragazzi sono davvero forti. Questo Ordine degli Antichi è davvero forte, molto potente. E poi ragazzi piccola e ultima chicca finale. Un'altra donna. Che ragazzi è quella donna guerriero di colore. Che vediamo sempre all'interno dell'ultimo trailer Ordine degli Antichi. Che da quello che sappiamo farà anche lei parte dell'Ordine. Ma non c'entra nulla con gli uomini mascherati di cui abbiamo appena parlato. Poiché dovrebbe appartenere ad un corpo militare. E quindi ragazzi questo è quanto per questo video. Spero vi sia piaciuto e interessato. A me ragazzi davvero questi trailer hanno colpito moltissimo. Sono stati fatti molto bene. Hanno trasmesso quello che secondo me gli ideatori volevano trasmettere. Quindi hanno raggiunto il loro scopo. Hanno trasmesso ansia, inquietudine e paura verso questo Ordine. Che sembra davvero forte, forte, forte. E che usa i poteri di Manufatti. Quindi cavolo. E soprattutto ragazzi una cosa molto interessante. A parte l'assenza del quinto sacerdote capo diciamo. Quindi quella è una domanda molto importante a cui non c'è ancora risposta. Probabilmente arriverà in queste ore, in questi giorni. Ed è una cosa che non capisco. Quindi a parte quell'aspetto lì che è ancora in sospeso. Una cosa molto interessante che sembra che ognuno di questi sacerdoti Ha una storia, una retro storia con Bayek. Che li lega comunque. Perché anche dalle parole che dicono nei vari taser e nel trailer. Sembra che appunto ci sia una storia dietro con Bayek. Che ovviamente verrà fuori all'interno del gioco. Ma sentiamo dalle loro parole che c'è qualcosa dietro. E sarà molto interessante scoprirlo, davvero. Molto interessante. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione e impressione su questi teaser e trailer di Assassin's Creed. Noi ragazzi ci vediamo a presto il lunedì con tantissime altre informazioni. Noi ci vediamo a presto con un prossimo video. Ciao! Mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Iscriviti al canale!